Uno sguardo sorridente e due occhi di bambino è un messaggio di pace e di speranza quello che parte dall'installazione pittorica realizzata da Osmo per l'ingresso della galleria Quintinosella. Sì, la cosa più difficile era affrontare un tema di questo tipo senza risultare retorico, senza risultare scontato o senza col rischio di celebrare quella che si voleva contestare. Perché spostare l'accento sulla guerra, anche dicendo no alla guerra, però in qualche modo si rafforza l'idea della guerra, nominandola. E quindi l'idea qua è stata proprio quella di accerchiare il problema e affrontarlo come sostiene uno dei miei grandi maestri, Alejandro Jodorowsky. L'arte deve essere sempre positiva, quindi si combatte il male rafforzando il bene. Non ci si sporca le mani, non ci si abbassa al livello del male, ma si sottolinea l'importanza del bene. È quello che ho cercato di fare con questa immagine di questo bambino o bambina, che vive proprio nella sua ambiguità, ma essendo un messaggio e un simbolo universale ho cercato di pensarlo in modo tale che parlasse a tutti, non solo agli spezzini, agli italiani, ma anche ai turisti e alle persone che incrociano via del prione per qualsiasi motivo. Una tecnica molto particolare e nel corso della creazione dell'opera sono stati coinvolti anche degli studenti spezzini. Allora, ho fatto vari incontri con gli studenti del liceo, abbiamo avuto gli studenti del liceo che sono venuti anche qui e mi hanno visto lavorare. Ho fatto un laboratorio con i bambini al museo LIA, l'abbiamo fatti ripingere sul muro, una scritta di benvenuto dal museo. Quindi sono state molteplici le opportunità di incontro e di scambio con i ragazzi, con i bambini, gli studenti. Un'opera che è stata realizzata coinvolgendo tanti studenti spezzini e che soprattutto si pone in dialogo con gli spazi urbani e con i passanti che transitano per via del prione. E certo, questa è un'opera specifica, fatta apposta da Osmo per questo luogo, in ascolto di questo luogo, di cui il significato è profondo e senza tempo. E in effetti ieri, oggi e domani il titolo scelto da Osmo è esattamente in questa direzione. Ed è un'opera d'arte pubblica, quindi l'arte pubblica è a disposizione del pubblico in maniera indifferenziata e crea curiosità, può creare anche appunto discussione e questo è il vero significato.